Cristian, ci sono tre amici che vorrebbero, poeti, non partecipare. Che vorrebbero declamare, uno è Sara, il secondo è Gennaro, e Luciano, il caro Luciano. Allora, possiamo dare un attimo? Assolutamente sì. Sara, vieni. Sara Napolitano, che ha scritto un bel libro che non riusciamo mai a presentare, perché quando tu sei disponibile non siamo noi, quando noi siamo disponibili non sei tu. Insomma, non riusciamo mai a presentare. Presidente, spegni niente, perché non vuole far consumare alcune di casa. Sara Napolitano, fuori concorso, quindi non vado a niente. Liberi, libertà è in un battito di cuore, è nella notte di luna piena, è nell'essere umano di poter esprimere il proprio pensiero senza essere ostacolati, è nell'aria, è nella giustizia. Hai sentito il canto del mare, hai sentito gli epidei inermi, è così la libertà, è un battito d'amore, nessuno può portartelo via. Anime, godete sulla terra, finché non dipingerete la vostra vita con dignità. Il libro si chiama Il mistero del popolo del mare, parla di un bambino cresciuto in una nave pirata che si impreccia alla mitologia greca. Grazie, bravissima, grazie. Allora, adesso è il momento notto fuori concorso, Gennaro Marrone.